ciao sono matteo oggi farò vedere come fare la pizza a casa in quarantena bene ora ora dovrò fare delle palline da 300 grammi più o meno perché perché voglio fare così ciao una volta fatte le palline e i panetti, massaggiare con un filo d'olio così in passi fa bello morbido, quindi ve lo ho massaggiato così, piano piano, con amore ora, prepariamo l'intervento ora, con un po' di semola andiamo a stendere la nostra pizza, molto importante che ci sia la semola perché così il panetto scivola e non si attacca ora facciamo così ai bordi e in mezzo lasciamo bello alto così quando andiamo a stenderla non si buca non è perché questo è il suo momento Questa la voglio fare Questa la voglio fare